itf del rung prima partita del main draw siamo qui per il tabellone di doppio con patrick prinott e david costna avete giocato con il numero due lizza turri e matteo volante era difficile già il pronostico poi il punteggio 6262 secondo me abbiamo giocato abbastanza bene per non averci allenato nel doppio quindi secondo me qui i campi sono difficili quando giochi la palla vola molto e devi controllare bene la palla se non ti va fuori subito e secondo me possiamo essere contenti della nostra prestazione gli altri ho visto hanno giocato molto aggressivi si sono 600 in doppio e quindi sanno come fare con noi giovani forse un po di esperienza in più era quella magari la differenza e adesso siete fuori dal torneo voi venite da dei tornei precedenti io settimana scorsa ho giocato l'open ad ossobuono a verona come andata ho perso agli ottavi di finale e anche tu davide eri no io invece mezzo lombardo ho giocato e anche la misa che erano ottavi prossimi programmi io prossima settimana ho in mente di andare a fare un open a san giorgio vicino c'è brunico e magari se entro il 10 mila in austria a perccia esattamente lo stesso io uguale sia in singolo che in doppio provate anche il doppio doppio vediamo in singolo intanto sì ok grazie a tutti e due grazie grazie a tutti grazie a tutti